A loro non interessa la commissione antimafia, quello è solo uno dei tanti orpelli che serve per corroborare la narrazione e la narrazione sulla mafia di questo governo è spaventosa perché nega gli ultimi 30 anni di storia di questo paese, le elezioni di Chiara Colosimo come presidente è l'ennesimo anello di una riscrittura generale della storia, accade in tutti i campi e figurarsi se poteva mancare un tema così sensibile come la criminalità organizzata su cui il centrodestra ha ancora molto da spiegare, negare gli accadimenti e se possibile ribaltarli. Il primo passo consiste nel sotterrare le notizie che un ex sottosegretario come Nicola Cosentino, uomo forte di Berlusconi in Campania e collega di governo di Meloni sia stato condannato in via definitiva come punto di riferimento politico del clan dei Casalesi e passato sotto traccia. Poco si è parlata anche della soluzione di Roberto Saviano che fu querelato dall'attuale ministro San Giuliano per essere stato definito un galloppino di quel Cosentino. È solo una delle tante notizie sparite dai radar del dibattito pubblico l'importante è tenere separata la mafia dalla politica per poterla normalizzare. È una lezione che sappiamo da decenni. È naturale che in questo scenario anche la riabilitazione di Marcello Dell'Utri e il silenzio sul ruolo di Silvio Berlusconi diventino un gioco da ragazze. A ricordarselo sono i giovani che sfilano a Palermo e che vorrebbero urlarlo al sindaco Lagalla e il governatore Musumeci. Non c'è problema, basta manganellarli. L'altro ieri in aula il senatore Gasparri ha mostrato le coordinate del revisionismo. C'è chi ha concretizzato l'opera e l'azione di Falcone e chi ha contrastato da vivo e lo celebra da morto. E anche su Borsellino ha detto c'è chi ha archiviato l'inchiesta su mafia e appalti, ci sono le firme, ce ne sono anche in quest'aula. Il riferimento, chiaro, è il campione dell'antimafia sarebbe per loro Silvio Berlusconi e il nemico di Borsellino dovrebbe essere l'ex magistrato Roberto Scarbinato, oggi senatore del Movimento 5 Stelle. Anche questo è veleno che circola da tempo. Per svilire dell'antimafia basta delegittimare i simboli. Peccato che su questa vicenda ci sia una condanna per diffamazione. I giornalisti Sansonetti e Aliprandi il reato, diffamazione nei confronti degli ex magistrati Scarpinato e Loforte accusati di aver affossato un'inchiesta che invece non è mai stata archiviata. La narrazione di questa maggioranza però della verità storica e perfino della verità precessuale. Se ne fotte quello che conta è occupare posti per moltiplicare le voci così, 31 anni dopo, può accadere serenamente che si possa definire il maxiprocesso di Falcone e Borsellino un simbolo di perversione di un sistema trasfigurato in missione sociale, l'aberrazione dell'azione penale che esporta l'ordine costituzionale, lo scrive Riformistas. Sito dell'inchiesta. Mica libero il giornale spiegandoci che Falcone, pur in perfetta buona fede scrivono e pur dedicandosi al costo della propria vita, ebbe un ruolo e un'idea molto discutibile sulla giustizia in generale, un concetto missionario in nome delle quali si è fatto male alla mafia ma sicuramente non si è fatto bene a quel che si dice lo Stato di diritto. Hanno scritto così, la narrazione anti-antimafiosa è servita.